la fattoria tutta un'altra favola da domani alle 11 55 su canale 5 oh luca domani arrivano i parenti dal canada sorpresa sono 25 ed ho subito un albergo e verifico se c'è posto fai tu io adesso da fare dedica più tempo alle cose che ami al resto ci penso 89 24 24 sorella cugina alla lontana 89 24 24 questo l'ho già visto anch'io nei miei incubi ma lei chi è scusi piero gros ma chi il capione olimpico di sci proprio lui ma che ci fa qua mi occupo dei volontari olimpici sono quasi 20.000 persone e sono brave bravissime tutte la medaglia d'oro vabbè che se la vinta lei forse ce la faccio anch'io anche san paolo partecipa a torino 2006 con lo stesso entusiasmo di piero a quanti anni l'ha vinta le olimpiadi 22 sembra passato un secolo ma guardi che è passato un secolo ma forse anche due san paolo meno banca più entusiasmo teresa il secchio non serve più c'è il nuovo emulsio detergente pronto all'uso si spruzza sui pavimenti pulisce in un attimo e asciuga in fretta presto fatto ben fatto emulsio avanti anni luce ecostore oltre 100 negozi dedicati alla tua stampante ricarica e fai da te ecostore pochi minuti pochi euro ecostore economico ecologico profuma di agrumi o profuma di fiori c'è un nuovo proteggi slip che sa di natura è velo slip fiori agrumi sottile e flessibile con un bouquet di note agrumate e fiorite ogni giorno nuovo velo slip fiori agrumi la sensazione di indossare la natura brit right cerottini nasali ma col mio naso chiuso funzionerà tu provalo brit right cerottini nasali senza farmaci allarga le cavità nasali con le sue nette flessibili funziona così respiri meglio brit right respirare bene per sentirsi bene classico suzuki swift accelerazione emotiva per un viso più giovane non è necessario mettersi a testa in giù dalla ricerca dermocosmetica eucerin modellians con acido ursolico e 5 primo rimodella i tratti secondo rassoda la pelle terzo riduce le rughe per un viso visibilmente più giovane nuovo modellians da eucerin in farmacia dai valentino corri è più forte di me io nella vita sono sempre ritardo ultima chiamata per il passeggero rossi valentino però alla fine arrivo e alla fine ho scelto fast web per me il massimo è arrivando sempre tardi ho imparato a correre fast web pensa se non ci avessi provato yogurt zucchero e frutta sono sempre i sapori più semplici quelli che non dimenticherai mai con i amo c'è del buono ogni giorno tapini napapi una babbe io sono una babba tapini è un continuo mescolarsi per divertirsi per ritrovarsi rosario simona manlò leila saimo chi vuoi eliminare chiama o invia un sms al 48421 oppure utilizza il box interattivo grande fratello eliminazione concorrente e nomination domani alle 21 su canale 5 vuoi vedere i ragazzi in diretta 24 ore su 24 solo su mediaset premium chiamati